Oggi lo studio Digital Consumer Survey qui a Roma insieme ad Accenture agi come presente ha sottolineato nel suo intervento l'importanza di studi come questi, studi qualificati, incentrati sul tema del consumatore. Ha anche auspicato future collaborazioni con Accenture in questo senso. Come mai? Sì, innanzitutto perché partiamo da due mondi e due punti di osservazione molto diversi. Accenture molto centralizzata sui fenomeni di cambiamento delle imprese e dei business e l'autorità concentrata più dal punto di vista delle tutele e della concorrenza da una parte e del consumatore dall'altra. Quindi due prospettive diverse che oggi si sono incontrate nel confronto di due studi diversi. Quello di Accenture legato soprattutto sulla costruzione di indicatori che misurano la performance del benessere dei consumatori in differenti contesti e quello dell'autorità che misura la soddisfazione o l'insoddisfazione dei consumatori nei settori da noi regolati. Alla fine i risultati convergevano nel senso che c'è una crescente fiducia dei consumatori laddove c'è una regolazione più pro-consumer ma anche più pro-concorrenziale. Ma resta molto da fare per capire l'autenticità dell'esperienza del consumatore nella prospettiva digitale. Io mi auguro che questo sia soltanto il primo di una serie di interventi che faremo insieme con Accenture basati soprattutto su un confronto intanto intellettuale e poi anche operativo ed economico sull'utilizzo congiunto di dati. È emerso un consumatore italiano iperconnesso sul quale si hanno anche moltissime aspettative. C'è da fare però una differenziazione di questo ha parlato. In che senso? Nel senso che un elemento che si trova ormai convergente è quello che appunto il consumatore l'utente finale di servizi è un utente che nello stesso momento è capace di fruire di più servizi in più device. Quindi questo cosa significa? Significa che pensare anche a forme di regole di tutela solo per la telecomunicazione, solo per il comparto televisivo, solo per altri tipi di servizi è un errore perché sempre più i servizi sono integrati e sempre più addirittura il consumatore fruisce congiuntamente di diversi servizi nello stesso momento. Allora da questo punto di vista è interessante capire se servono ancora regole comuni o se vanno seguite regole flessibili in funzione della tipologia del consumatore. Un mondo di esperienze digitali sostanzialmente quello che tracciava facendo l'esempio di una bolletta elettrica, telecomunicazioni e altri servizi come una sorta di framework unitario per tutte le offerte e tutti i tipi di consumi. Quali vantaggi e quali rischi anche per la concorrente? Allora innanzitutto l'idea che settori diversi, quindi anche regole pensate per settori diversi faccio un esempio per tutti, telecomunicazione da una parte e energia dall'altra convergano nel definire forme come per esempio la bolletta di comunicazione e di esperienze del consumatore convergenti e comune, fa sì che il consumatore voglia e in qualche modo pretenda che l'esperienza migliore che ha vissuto in un settore, per esempio in una bolletta elettrica la possa ritrovare in un altro settore, per esempio in una bolletta di servizi di comunicazione elettronica. Allora questo fa sì che man mano il consumatore diventa un soggetto attivo che pretende di trovare le migliori pratiche anche in settori diversi. Alla fine noi lo regolamentiamo da punti di vista diversi ma è sempre lo stesso consumatore e anzi proprio dal punto di vista della digitalizzazione dei dati e dei servizi ritengo che le diverse autorità debbano come in effetti stiamo cercando di fare collaborare sempre di più per promuovere una regolazione convergente sul trattamento dei dati digitali e sulla tutela del consumatore.